A Santomero in Val Vibrata uno dei punti della raccolta firme che avviene in tutto il mondo per dire no, cioè per un dissenso alla proposta della nuova Costituzione nel Venezuela. Certo, completamente vero. Noi siamo qui, adesso nella Val Vibrata, perché siamo voce del popolo del Venezuela, di tutti i venezuelani che siamo all'estero e che diciamo no alla costituente proposta del governo perché è completamente illegale, è proprio un frode. Che cosa manifestate di negativo in quello che è stato proposto dalla nuova Costituzione e dal governo? Della Costituzione è tutto negativo perché praticamente si vuole impostare una dittatura, non vogliamo diventare la seconda Cuba o peggio, questo è il problema. Questa occasione insomma riporta anche l'attenzione su quella che è la comunità venezuelana o comunque i venezuelani all'estero o anche gli italo-venezuelani che sono partiti e poi sono tornati. È una comunità molto vasta quella in Abruzzo e anche qui in Val Vibrata. Sì, è vastissima. Infatti l'Abruzzo è il capobando di questo processo perché c'è stata un'immigrazione molto forte negli anni 50 e 60 e negli ultimi 20 anni dovuto alla gravissima situazione politica, economica, sociale che vive il Paese. Ci sono stati tanti rientri in patria di figli di italiani, italiani e non solo, anche dei venezuelani che vengono qui per uscire dal Paese dovuto alla grande crisi che c'è. I venezuelani all'estero e anche il popolo venezuelano. Oggi stiamo facendo storia perché non vogliamo che il nostro Paese sia ripreso di questa dittatura così brutta. La stanno passando fame, non vogliamo diventare un'altra Cuba, veramente non ce lo meritiamo. Lei ha i genitori in Venezuela ancora? Sì, mio padre e mio fratello. E qual è stata la decisione che l'ha riportata poi in Italia? L'insicurità, soprattutto l'insicurità. Voglio portare il mio figlio per stare più tranquilla, veramente. L'affluenza è stata tantissima, veramente tanta e grazie a tutti, veramente grazie all'Italia, grazie a tutti i locali privati, i comuni che ci hanno permesso di fare questa raccolta e far sì che abbiamo una voce, i venezuelani possano essere rappresentati nel mondo perché siamo una grande forza. E' sto con Venezuela!